Ben tornati a Football Benchmark, quinta stagione della trasmissione, ma soprattutto ben tornata da Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ben trovata Andrea, ci troveremo di fronte a una stagione intensa perché dovremo raccontare quanto è cambiato nel mondo dello sport e nel mondo del calcio dopo questo periodo difficile che probabilmente continuerà. La prima puntata abbiamo deciso di focalizzarci sull'Inter perché in questo periodo si sta parlando molto della ricerca di un partner da parte di Suning per cercare di migliorare la condizione economica nerazzurra. Ti faccio due domande in una. Intanto se possiamo dire che il problema interista sia relativo, il problema della società dell'Inter sia relativo a una mancanza di liquidi, quindi una crisi di liquidità. Il secondo se questa esigenza all'Inter di andare a cercare un partner, poi capiremo con la cronaca se di minoranza o di maggioranza, è determinata dall'impatto che ha avuto il Covid sui conti dell'Inter e dalle restrizioni che stanno arrivando per le società cinesi sugli investimenti all'estero. Allora rispondo alla seconda domanda prima dicendo che è corretto ciò che appunto tu hai detto, ovvero che c'è una restrizione circa l'esportazione dei capitali dalla Cina e il calcio non è anche considerato un settore di natura strategica e di conseguenza questo assieme al fatto che il core business di Suning è stato impattato in maniera molto negativa dalla pandemia ha portato chiaramente a delle problematiche, a una crisi di liquidità che appunto tu hai menzionato e che è il vero grande problema dell'Inter in questo momento e che va risolta o con la vendita di una partecipazione se non l'intero pacchetto azionario che però chiaramente non ha solo Suning ma come ben sapete ha anche un altro partner oppure attraverso un rifinanziamento del debito in essere perché c'è un problema di liquidità a breve termine. Allora grazie ai vostri approfondimenti e agli approfondimenti di KPMG abbiamo voluto fare una fotografia di quello che l'Inter è oggi andando anche a vedere qual è stata l'evoluzione soprattutto durante l'era Suning. La prima slide che vediamo rispetto ai numeri riguarda l'evoluzione dei ricavi operativi e c'è un effetto Suning trainante perché è evidente i numeri si passa dai 183 milioni di euro della stagione 15-16 ai 366 della 18-19 c'è una forte contrazione del 20% sull'ultimo bilancio che abbiamo a disposizione. La domanda è questo meno 20% è relativo soltanto al Covid? È soprattutto relativo al Covid. Stiamo parlando praticamente di un decremento di 74 milioni ma in parte anche come vedremo bene nella slide successiva alla diminuzione dei ricavi commerciali perché non dobbiamo dimenticare che ciò che Suning ha portato rispetto alla gestione Toir che vediamo nella prima colonna l'ultimo anno di Toir fu il 15-16 quando si realizzarono 183 milioni di ricavi un raddoppio dei ricavi commerciali quindi un 44%. Poi quello che possiamo vedere anche nella stagione 18-19 l'impatto derivante dalla qualificazione in Champions League. L'Inter che chiaramente ha partecipato anche quest'anno o scusate l'anno scorso alla Champions League 19-20 ha però subito un effetto negativo derivante dalla diminuzione dei ricavi commerciali che penso sia la grafica successiva. Esatto, l'abbiamo già intravista no? Abbiamo visto che si è passati dai 171 milioni di euro della stagione 18-19 ai 122 della 19-20. Questo dovuto a cosa? Praticamente c'è un decremento dei ricavi commerciali del 29% o di circa 45 milioni di euro nonostante poi i ricavi commerciali rimangano comunque anche nell'ultima stagione la fonte principale di ricavi da parte dell'Inter. Però quello che è successo è appunto il fatto che alcuni di questi accordi commerciali firmati con il gruppo Suning e soprattutto con delle altre società cinesi che possiamo considerare satelliti correlate a Suning sono andati in scadenza. È importante anche sottolineare appunto il salto della stagione 2016-2017 di circa 73 milioni di euro e in cui appunto Suning contribuì notevolmente alla crescita dei ricavi commerciali attraverso la sponsorizzazione della pinetina, la sponsorizzazione delle divise di allenamento e che ha portato e porterà fino all'anno 2022 ben 16 milioni di euro all'anno nonché una cosiddetta signing fee di 25 milioni che era stato chiaramente una fortissima boccata di ossigeno per l'Inter nella stagione 16-17 in cui tra parentesi la società era anche sotto il settlement agreement con la UEFA. La domanda da farsi per un investitore interessato ad acquisire una partecipazione dell'Inter è vedere se questi ricavi commerciali sono effettivamente sostenibili nel medio periodo o nel momento in cui Suning uscisse appunto dalla proprietà. Beh proprio dalla prossima grafica che vediamo forse una risposta si può anche avere, no? perché l'Inter sta cercando un nuovo main sponsor rispetto alle altre grandi d'Europa, alle grandi d'Italia, a un accordo commerciale con l'attuale main sponsor che è Pirelli decisamente più basso rispetto alle grandissime del calcio europeo, vedi Real Madrid e Manchester United ma anche rispetto alle altre italiane. Sì, infatti se prendiamo la Roma, se prendiamo il Milan, la Roma non appare in questa grafica ma con Qatar Airways ha un accordo di 13 milioni di euro, il Milan 12 milioni di euro con Emirates ma se guardiamo anche la differenza e il gap che esiste con la Juventus che è stata in grado di firmare un accordo molto importante con GIP anche a seguito poi dell'acquisizione di Ronaldo il gap è notevole. Qual è l'obiettivo dell'Inter? Esatto, scontro. E diciamo di raggiungere un accordo tra i 25 e i 30 milioni che direi è un obiettivo realistico quando guardiamo delle squadre comparabili. Tendo anche a sottolineare Luca che c'è anche una forte forbice tra lo sponsor tecnico dell'Inter che è appunto la Nike che ha un accordo di circa 20 milioni di euro rispetto ai grandi club europei se prendiamo la Juventus la sponsorizzazione tecnica genera 52 milioni di euro per non parlare poi delle cifre mostre del Real Madrid che si aggirano intorno ai 120 milioni di euro all'anno con Adidas. Un'altra chiave di lettura per capire la solidità e la salute del club è chiaramente la redditività. Intanto il primo dato che è quello della sostenibilità determinata dal rapporto stipendi di cavi l'Inter è leggermente sotto la soglia indicata dalla UEFA e è al 68% di questo parametro ma questo grafico invece cosa ci dice rispetto allo stato di salute dell'Inter? Questo grafico mostra diciamo otto colonne, quattro anni della gestione Tohir e quattro anni della gestione Suning. Vediamo che in sette delle otto stagioni analizzate l'Inter ha realizzato delle perdite ci sono stati dei profitti nella stagione 13-14 ma che definirei più di natura contabile e delle plusvalenze derivanti da una ristrutturazione del gruppo. In totale negli anni l'Inter ha accumulato oltre 520 milioni di perdita di cui circa 320 milioni sono imputabili alla gestione Tohir e poco meno di 300 alla gestione Suning. È anche vero però che durante la gestione Suning si sono fatti degli investimenti notevoli nell'acquisire determinati tipi di calciatori che hanno chiaramente una valenza internazionale importante pensiamo a Eriksen, pensiamo a Lukaku e a altri e chiaramente c'è stato anche un incremento sia degli ammortamenti che chiaramente anche degli stipendi. Però come tu giustamente hai sottolineato l'Inter è comunque al di sotto della soglia raccomandata dall'UEFA del 70% del rapporto stipendi-ricavi. Quando si va a comprare poi una società la domanda che viene da farci è cosa compro? Sicuramente il parco giocatori e qui vediamo le valutazioni dei giocatori più importanti della rossa dell'Inter che sono stati valutati proprio da KPMG che fa anche una valutazione correttiva nel corso della stagione non solo grazie all'andamento ma anche dopo le finestre di mercato quindi molto aggiornata. E sicuramente ci sono dei giocatori che hanno un appeal sul mercato importante indipendentemente naturalmente dalla situazione di crisi che in questo momento sta vivendo l'Inter. Ma l'altro è un discorso di marchio e del valore di impresa che è un altro key point che KPMG ormai studia da diverso tempo e nella quale l'Inter nel corso degli anni ha scalato le classifiche. Addirittura sul valore di impresa voi avete stimato un più 146% dal 2016 al 2020 di fatto da quando Suning è entrato. Assolutamente l'Inter è stata la terza squadra in Europa ad accrescere il proprio valore dal primo anno in cui facciamo questa valutazione ovvero il 2016 tengo anche però a sottolineare che questa è una valutazione pre-pandemica ovvero al primo gennaio 2020. Chiaramente il valore della rosa che è cresciuto notevolmente negli anni come abbiamo visto nella grafica precedente ma che ha anche comportato una crescita notevole degli stipendi pensiamo a giocatori come Lukaku, come Eriksen, come Vidal, come Sanchez che guadagnano tra i 5 e i 7 milioni e mezzo hanno impattato sulla redditività ma hanno chiaramente accresciuto il valore della rosa, hanno potuto attrarre dei grandissimi campioni e quindi hanno fatto accrescere come dicevi giustamente del 143% il valore di impresa. Qui si parla di valore incluso i debiti. La valutazione che è stata fatta di recente da BC Partner quanto meno quello che è stato menzionato dalla stampa è di circa 750 milioni e riteniamo che questa valutazione possa essere realistica in considerazione del fatto che noi riteniamo che la svalutazione delle più grandi squadre europee si possa girare tra il 20 e il 25%. Di conseguenza applicando uno sconto del 25% sul quasi miliardo della nostra valutazione si arrivano a delle cifre che sono molto vicine a quelle di BC Partner. Però Luca devo anche dire una cosa che questa valutazione non tiene conto a mio avviso di un aspetto fondamentale che è il progetto Stadio. Ah beh certo, lo Stadio chiaramente ha un peso molto importante non solo per l'Inter ma anche per il Milan che ha già avuto un cambio di società e che sicuramente ha un peso soprattutto in futuro se dovesse iniziare tutto l'Inter. Ti faccio una domanda velocissima perché siamo davvero in chiusura ma credo che sia un dato importante sai stimarmi più o meno quanto ha investito Toir in questi quattro anni di presidenza all'Inter? Suning, non Toir chiaramente. Suning, Zhang. Sì, poco più di 700 milioni di euro però nel frattempo ha anche portato avanti il progetto Stadio e io ritengo che il progetto Stadio si è realizzato e che ritengo un progetto di una valenza notevolissima per il Milan, per l'Inter perché è realizzato congiuntamente quindi avranno i benefici dei ricavi da Stadio ma allo stesso tempo non sosterranno i costi di sviluppo o quantomeno si suddivideranno i costi di sviluppo e anche i costi di gestione e quindi io ritengo che il progetto Stadio di Inter e Milan possa portare ad una crescita del valore d'impresa veramente notevole. Grazie mille allora Andrea Sartori chiudiamo qui questo approfondimento, questo focus sull'Inter l'appuntamento naturalmente con Football Benchmark torna la prossima settimana buona serata grazie a tutti grazie a tutti